La guerra dalle telecomunicazioni non è solo guerra in Ucraina, c'è anche un grave fatto dell'ultima ora che è la morte di Masa Amini. Morto ormai qualche giorno fa, ma oggi si sta concretizzando qualcosa di molto concreto e pesante e le telecomunicazioni sono il vettore con cui questo viene portato avanti. Innanzitutto, per un breve recap, per chi non sa chi è Masa Amini, è un'iraniana che cinque giorni fa è stata uccisa dalla polizia morale dell'Iran perché non indossava correttamente il hijab. Non voglio entrare in questi dettagli dell'Iran, sulla questione di moralizzazione. C'è stata la rivoluzione islamica nel 1979 e l'Iran da stato liberista, se mi permettete il termine, è diventato molto religioso e quindi sono stati imposti, se si trattavano poi, dei limiti molto forti. A fronte della morte di questa ragazza sono scoppiate delle ribellioni, ribellioni diciamo che sono molto pesanti, ecco, quindi ci sono delle città che sono assegliate dalle proteste e la polizia sta reprimendo con violenza queste proteste. E per evitare che queste proteste vengano coordinate il governo cosa ha deciso di fare? Ha deciso di staccare internet. Inizialmente, o come dicono alcuni quotidiani in Italia, hanno chiuso Instagram e Whatsapp e diciamo che questa è stata un'azione in realtà non fatta fine a se stessa, ma è stato il blocco completo della rete mobile che ha reso poi indisponibili anche Whatsapp e Instagram. Questi due strumenti erano gli unici due strumenti che potevano essere utilizzati in Iran perché Facebook, Twitter ed altre piattaforme sono già bloccate sempre, quindi questa è la libertà di informazione che vige in Iran. E sostanzialmente cosa è accaduto? Il governo ha dato questa direttiva alle reti mobili e agli operatori di rete mobile di spegnere le reti mobili, quindi i cittadini sono rimasti senza internet per le strade. In alcuni stati, in alcune zone, tipo in Kurdistan, sono state scollegate completamente le reti internet, quindi sono rimasti completamente isolate queste zone. Non è la prima volta che il governo iraniano adotta una politica, una soluzione di questo tipo a dei problemi di ordine pubblico, perché già nel 2019 era stata presa questa decisione di chiudere internet. Perché si blocca internet? Non tanto per evitare che i cittadini parlino, ma quanto per bloccare la documentazione di misure molto forti presi dall'esercito, quindi di uccisioni sommarie, di violenza molto forte che poi i paesi occidentali potrebbero interpretare male, ma perché interpretare male, e quindi sapendo che fanno delle cose che verrebbero condannate dall'Occidente, decidono di chiudere le telecomunicazioni per evitare che ci sia questo tam tam internazionale. Nel 2019 era stato il più grave atto di repressione nei 40 anni di storia islamica, perché vi ripeto dal 79 che c'è il regime che attualmente sta governando l'Iran. Oggi comunque sta succedendo la stessa cosa di 40 anni fa, dove ci sono manifestazioni per chiedere maggiori libertà personali, e repressioni violente, repressioni che non si vogliono far trapelare. In tutto questo internet è un tassello fondamentale, un tassello fondamentale di chi governa, un tassello fondamentale della propaganda, e un tassello fondamentale per mantenere il regime illiberale. Come vi ho detto, anche in momenti normali ci sono delle grosse limitazioni all'internet. Le disconnessioni quindi sono dietro l'angolo. Questo è l'Iran, ma dovete rendervi conto di come è facile disconnettere un intero paese da parte di un governo quando non si ha questa garanzia delle comunicazioni. E diciamo che se volessero fare qualcosa di simile anche da noi, non è così difficile, perché i nonni nevralgi ci sono pochi. Sarebbe difficile magari creare una outage totale, anche grazie alle telecomunicazioni via satellite o quant'altro, però il pericolo del blocco delle telecomunicazioni è un pericolo molto grave. E quella dell'Iran oggi è una storia che ci deve far riflettere di quanto sono importanti e di quanto sono fragili le telecomunicazioni.